salve un saluto a tutti buon weekend ovviamente anche buon primo maggio con la chiusura del mese facciamo il punto sp500 siamo sul time frame daily e la prima cosa che vediamo è chiaramente la spinta rialzista delle ultime due sessioni con due sedute che consegnano due candele bullici rialziste piene estese quindi per ora c'è un movimento rialzista conferma poter proseguire quali sono i livelli chiaramente da tenere d'occhio in primis vediamo come sia stato rotto al rialzo il canale ribassista di medio lungo periodo che era presente sul sull'indice rottura pullback retestata la parte alta del canale come supporto e movimento rialzista in essere qual è il possibile target che l'indice andrà a prendere secondo noi secondo noi è possibile andare a prendere e qui si evidenzia un altro canale rialzista andare a prendere area 4.300 punti un livello che è importantissimo perché va a coincidere con questa resistenza statica di medio periodo eccoci qua resistenza statica che vediamo evidente quindi obiettivo per ora ai 4.300 punti dove appunto la doppia resistenza poi potrà dare la forse a un nuovo ritraccio quest'area è un'area evidente anche la evidenziamo scusate il gioco di parole sul time frame weekly perché da i massimi assoluti fino ai minimi che abbiamo avuto ottobre 2022 la ripartenza vediamo come la settimana chiusa consegna un atto di stampo rialzista ed ecco che area 4.300 punti coincide con il livello aureo di fibonacci livello più importante il 61 8 confermando la possibile bontà di quest'area di resistenza vista poco fa sul daily quindi per ora movimento rialzista che ci aspettiamo possa proseguire con target fino ai 4.300 punti circa un saluto a tutti buon trading